Nonno Hollywood si intitola proprio così, sembra strano ma effettivamente è tutto vero, questo brano musicale del grande Enrico Migiotti. Cantautore italiano, nato a Livorno nel 1987, diventato famoso, famosissimo grazie al famoso talent show X-Factor nel 2017, porta in scena, porta in ascolto questo brano Nonno Hollywood, due parole contrapposte, due parole che hanno due significati diversi ma che sono unite grazie ad un unico significato, quello probabilmente dal mio punto di vista di ricordare Hollywood, teatro, scena del cinema americano, per eccellenza e dall'altra parte un senso di antichità e di obsolescenza che può derivare proprio da quello che in alcuni casi la società di oggi può far vivere. Significati, significati, significati quelli che propongo io che sono ovviamente stupidi, che sono banali, che non significano nulla, però mi sento di diffonderli. Un brano musicale questo che però, sono convinto, piacerà al grande pubblico, un brano musicale questo che però, sono convinto, produrrà quelle, chiamiamole sonorità, capaci di entrare qui dentro e che andranno a farsi ben ascoltare, a farsi ben sentire dalla voce piacevole, buona, garbata, graziosa, meravigliosa, incantevole di Enrico Migiotti. Grazie a tutti, un salutone al prossimo video da Narratore Italiano.